Amici Trebimeteon, bentrovati da Luca Pace. Anche la giornata di sabato vedrà condizioni di spiccato maltempo sull'Italia, tutta a corpa di questo vortice depressionario che rinnoverà condizioni di marcata instabilità. Vediamo dunque nel dettaglio le aree interessate dalle precipitazioni, da segnalare al mattino ancora possibili nevicate sino in pianura sul Piemonte, ma poi rovesce temporali si concentreranno sulle regioni tirreniche e in serata anche su quelle ioniche. In definitiva, ecco la previsione per la giornata di sabato, ancora maltempo al nord, con piogge diffuse sulla pianura padana, come detto residue nevicate in mattinata sulla pianura piemontese e nevicate copiose sull'arco alpino. Instabilità in particolar modo sulle regioni del versante tirrenico, con rovesce temporali che localmente in serata potranno risultare di forte intensità invece sulle regioni ioniche, temperature che non subiranno variazioni, clima ancora piuttosto mite sulle regioni centro-meridionali. Ulteriori dettagli come sempre vi aspettano sulla nostra app gratuita Trebimeteo.